Devono essere così. Cerchio Firenze 77. Scuola del Cerchio Firenze 77. 15 aprile 1970. Essere e divenire. A cura di VB. Dali. Voi figli, la scorsa volta vi siete chiesti perché per questo argomento è stato scelto più che altre volte il sistema di scoprire a poco a poco la verità. Perché figli cari, noi desideriamo la partecipazione di tutti. Sì. Quello che noi vi diciamo è talmente inconsueto che ha bisogno che voi lo assimiliate veramente poco a poco. Allora inizialmente vi sono stati dati degli elementi e vi dicemmo per ora prendete questi principi e poi vedrete che essi stanno assieme. E voi avete scoperto come stanno insieme i concetti della contemporaneità delle razze con il concetto della non contemporaneità del sentire individuale. Vi dicemmo per ora accettatelo. Adesso mi auguro lo avete compreso. Dopo i primi elementi forniti abbiamo cominciato a parlare assieme di questi argomenti. La via può sembrare tortuosa e difficile. Come ha detto prima il fratello Kempis non abbiamo voluto che la cosa rimanesse condensata e trascritta in poche lezioni. È vero? Noi abbiamo, si può dire, cominciato a parlare delle varianti all'inizio di questo ciclo di riunioni. Potevamo elencare un'altra serie di principi ma già l'argomento inconsueto sarebbe risultato per voi completamente estraneo ed ostico. Così a poco a poco vogliamo giungere con voi a capire questi nuovi concetti, comprendere perché devono essere così e non possono essere diversamente. Grazie. 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 Grazie.